Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in questo video farò vedere 5 slime e si mi raccomando ragazzi pollice in su e si e niente incominciamo subito incominciamo subito con il primo slime questo e arancione e apriamolo ciao ok questo è bellissimo non è slime in pratica soltanto che è un po' cioè non è che si allunga tanto e si vabbè carino si vabbè carino non è neanche bagnato non è tanto fluffy si semmai alcune volte sapete che alcune volte questo slime quando lo vado a toccare è un po' crunchy fa alcune e niente passiamo subito al secondo andiamo subito con il secondo che in pratica è sempre uguale soltanto che cambia colore e è tipo un colore azzurro si azzurro chiarissimo e si è molto carino come oh qua sono anche vabbè comunque molto carino non è tanto fluffy perché si spezza ecco vedete e si vabbè questo qua è molto carino però non è che mi piace tanto perché si spezza cosa più brutta vabbè questo slime è molto carino non è tanto fluffy aia guarda adesso dovete sentire ok passiamo subito al terzo slime ok non è tanto allora oddio il terzo slime si chiama schifido il pasta elastica super star che mi sa che è la mamma mia mi devo fare un po' lavoro lungo quindi ci vediamo dopo finalmente l'abbiamo tirato fuori e niente è molto si questo è flat però e si è molto carino però è un pochettino duro perché è da tanto che non lo uso infatti è da tanto che non lo uso e si vabbè è molto carino con dei brillantini rossi e i slime rossi vedete è molto carino e niente passiamo il quarto slime cioè il più grande di tutti apriamolo si chiama crystal glitter putty dunque guardate che schifo vedete è oro è oro con i brillantini oro dove sono e niente è oddio tiriamolo fuori però si spezza ma guardate c'è vabbè c'è si bagna ma poi c'è è tantissimo appiccivoso e sia questo dovrebbe essere il mio preferito però non lo è perché si strappa la cosa più importante di questo slime è che si strappa guarda c'è fa così e si stacca subito e e niente è molto carino cosa ti dico sempre il mio nome e con questo abbiamo finito poi erano 5 dei miei slime in altri video farò vedere altri slime mi raccomando ragazzi supportate il canale un pollice lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale e ciao alla prossima ciao a tutti